Ottimi risultati per la raccolta differenziata di Zapponeta. La cittadina foggiana accoglie con soddisfazione i dati che lo vedono qual è il comune più virtuoso con il miglior risultato mai raggiunto in Capitanata. I dati resi noti in conferenza stampa dal primo cittadino. Certamente grazie alla popolazione che ha saputo dare un'ottima risposta in questa direzione. Oggi possiamo essere grati di essere il comune più riciclone di Foggia. Purtroppo fino a qualche mese fa Zapponeta era tra i 41 comuni con zero differenziato. Oggi siamo al 77,30 con prospettive a fine anno dell'80%. Numeri che parlano di un risparmio economico per i cittadini ma al contempo di un beneficio per l'ambiente e la salute. Risultati positivi per una proficua attività svolta di concerto. Abbiamo cercato fortemente, o meglio più che l'ASE, devo dire la verità, devo dare merito al sindaco di Zapponeta perché noi avevamo dei dubbi. Dobbiamo dire che i risultati sono positivi e questo è merito dell'ASE, è merito dell'amministrazione ma è merito soprattutto dei cittadini perché dobbiamo dirlo chiaramente quando si parla di raccolte differenziate, di rifiuti, senza la collaborazione dei cittadini non si va da nessuna parte. In questo momento su Manfredonia abbiamo raggiunto già un ottimo risultato. Cioè siamo quasi al 40% di raccolta differenziata, considerando che dobbiamo chiudere ancora solamente due zone. Perché io adesso vengo dalla mia azienda dove stanotte abbiamo subito il furto di quattro mezzi. Diciamo che per noi è fondamentale, i mezzi sono un aspetto fondamentale dell'attività di un'azienda che si occupa di igiene urbana e quindi queste problematiche ci creano delle interruzioni del servizio.